Buongiorno da Edo, comincio di nuovo con una curiosità non informatica ragazzi, tanto che ci frega siamo quattro gatti, siamo tra di noi, ci prendiamo un caffettino e vi parlo di sta cosa che ho letto ieri allora ho letto un articolo sulla grande piramide di Giza o piramide di Cheope che è molto figo praticamente nel 2016 usando varie tecniche avevano rivelato le tracce di un possibile corridoio nascosto e poi un vuoto misterioso che poteva indicare una camera nascosta ancora mai scoperta e adesso, cioè proprio ieri, c'è questo annuncio che un team di scienziati usando metodi impossibili da spiegare in un minuto tipo che sfruttano i raggi cosmici hanno scoperto che c'è effettivamente un corridoio nascosto, ancora inesplorato e che quindi la grande piramide ancora cela dei segreti questo corridoio è largo 2 metri e lungo 9 e hanno anche spiegato che forse è stato creato per ridurre il peso della struttura per proteggere qualcosa dietro di esso e che cercheranno di scoprirlo presto e potrebbe essere la scoperta del secolo perché potrebbe forse portare alla tomba di Cheope che è il faraone che fece costruire la piramide circa 4500 anni fa e che ancora non si è mai trovata molto figo, io il link a questo articolo ve lo metto giù, secondo me un giretto lo merita e adesso se vi interessa sviluppare videogiochi o magari state pensando di provare a entrare in questo mondo ma vorreste farlo con strumenti open source non potete perdere l'annuncio del rilascio della versione 4.0 di Godot in sviluppo da tempo e di cui abbiamo parlato anche qui qualche tempo fa è che il primo marzo è ufficialmente arrivata potete scaricarla e esplorarla liberamente ed è davvero open source, cioè l'engine e il tool per usarlo sono distribuiti con licenza MIT quindi siete liberi di usarlo per qualunque scopo, modificarlo in qualunque modo e redistribuirlo in qualunque modo potete anche copiarlo paro paro e venderlo con una vostra licenza proprietaria è un po' permissiva la licenza MIT in effetti e tutto questo naturalmente non si applica ai giochi che voi creerete con Godot perché quelli invece hanno la licenza che volete voi libera, proprietaria, commerciale, quello che vi pare scelta vostra, libertà massima allora con Godot 4.0 l'engine di gioco che ricordo essere un engine sia 3D che 2D è stato completamente riscritto e ha avuto la collaborazione di circa 2000 contributors che è un esempio fantastico di sviluppo condiviso da una fortissima community open source ed è disponibile per Linux, Windows, macOS e gira addirittura su Android e questi sono naturalmente anche i target per i quali potete realizzare ed esportare il gioco e peraltro adesso con una collaborazione con W4 Games sta per arrivare anche la possibilità di esportare per console cosa che amplierà ancora la platea degli interessati a questo motore naturalmente abbiamo quindi una pletora di caratteristiche nuove che portano il motore al livello dei concorrenti commerciali come Unity e quindi possiamo trovare il rendering 3D migliorato con supporto a driver Vulkan molto importante oltre che naturalmente la compatibilità con OpenGL per mantenere il supporto ai device più antichi e poi c'è il sistema di illuminazione completamente riscritto che introduce una tecnica di illuminazione in real time chiamata SDFG-I e che in pratica potete trovare tutti i dettagli tecnici sul sito ufficiale per approfondire chi fosse interessato sembra qualcosa di molto adatto a giochi open world o dei grandi panorami che devono gestire fonti di luce distanti e invece per gli ambienti medi e piccoli la soluzione di illuminazione nuova è Voxel GI che è sempre in real time che si adatta particolarmente bene agli ambienti interni tutto questo naturalmente corredato da una migliore gestione delle ombre e anche sul fronte dei giochi 2D ci sono molte novità in particolare il nuovo Tile Map Editor per controllare proprio in modo molto preciso le collisioni, i movimenti, le altre proprietà delle tile e poi i layers e un sistema di auto-tiling per generare aree molto velocemente e con un sistema di paint randomizzato quindi per esempio per disegnare piante, rocce insomma elementi random dello scenario in modo rapido e che si incastrano bene automaticamente quindi già con questo editor vi portate a casa praticamente mezzo gioco 2D finito se poi volete fare i fighi potete aggiungere anche la nuova gestione dell'illuminazione con le luci e le ombre direzionali che sono molto belle da vedere e pare anche semplici da implementare e poi si parla naturalmente anche di coding e il linguaggio più usato in Godot per sviluppare è GDScript che nasce proprio apposta per Godot ed è stato migliorato con un occhio soprattutto alla developer experience quindi con un sistema di static types ancora più robusto senza i fastidiosissimi errori delle dipendenze circolari che tutti noi sviluppatori TypeScript conosciamo molto bene e poi le funzioni first class, nuove keyword come await e super e roba cara agli sviluppatori funzionali come map e reduce e sempre dal lato del codice da segnalare il port di tutta la piattaforma a .NET 6 perché .NET è la base di Godot quindi potete anche scrivere in C Sharp anzi adesso beneficiare anche di tutte le nuove feature di C Sharp 10 che è il nuovo default ci sono naturalmente un sacco di altre cose il ritorno del motore fisico interno a Godot Physics il miglioramento alla UI e alla user experience dell'editor l'internazionalizzazione la realtà virtuale è aumentata con il supporto a OpenXR e poi un super migliorato netcode per il gioco multiplayer insomma potrei stare qui un'altra oretta a parlarvi di questo fantastico progetto open source invece ho esaurito il mio tempo quindi quello che mi invito a fare è dare un'occhiata all'annuncio ufficiale ci sono un sacco di dettagli, di immagini, di video, di quello che si può fare supportate il progetto, sviluppate tanti videogiochi che alla fine è la cosa più bella che uno sviluppatore possa fare e su questo credo che non ci siano dubbi e non ci sono dubbi neanche sul fatto che questo episodio sia finito quindi grazie a chi ha seguito fin qui passate un buon weekend mangiate tante cose e ci vediamo alla prossima ciao